Seconda vittoria consecutiva per la battipagliese che vede ora una salvezza tranquilla. Battuta la capolista Agropa dello stadio comunale di Buccino, vista l'indisponibilità dello stadio Passana di Battipaglia. Due ad uno il risultato grazie a una doppietta di Massimiliano De Angelis. Nel finale la rete di capozzoli per i delfini. Ma la società alza la voce in merito all'indisponibilità dello stadio. Il presidente Mario Pumpo, il presidente onorario Maurizio D'Alessio e la dirigenza tutta in una nota scrivono Basta, perché senza il nostro stadio e il dodicesimo uomo in campo non possiamo più andare avanti. Senza la nostra gente non si può. Quindi invitiamo la sindaca e l'amministrazione comunale tutta affinché si adoperi perché la battipagliese deve giocare a battipaglia. Ed infine annunciano. Se ciò non avverrà saremo costretti a fermarci ed a consegnare il titolo al comune senza sì e senza ma.